Se volete supportarmi su Fortnite, basterà andare nell'Item Shop, cliccare nel rettangolino in basso a destra e andare ad inserire il mio nome, ovvero Kratomis. Accettare e il gioco sarà fatto. Non appena avete inserito il codice, lo vedete scritto qui in alto a destra. Ringrazio tutti coloro che decidono di supportarmi. Ah ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non ve ne pentirete. Link in descrizione. Barca, tu sei morto. No, è morto lui. O tu. Lui? Ah, perché dici sotto di me? Vasi tu sotto di me? No, no, no. Non potevo nì da te, ce l'ho da facendo. E qui c'è un team. No, non so dove è andato l'amico. Ho trovato un lama io. Oh, eccolo. Qua dietro. Ma anche tu hai l'SMG? Sì. Faccio il giro io? Eh, sta allora. Nice. Vuoi una cura? Tieni. No, no, aspetta. Questa è mia. E prenditi i medici, tu fuori ce ne sa un altro. Ok, ma giusto perché è uno slot, poi è una tarda. Anzi, faccio così. No, no, vieni che qua c'è gente. Guardate, guarda qua. Tutti qua stanno, eh. Ma qua dietro. Questa è il vero pompa. Allora, hanno entrambi il pompa. Cazzo, tu ce l'hai nuovo? Guarda qua c'è la supporter. Guarda, Ale. La tecnica è white. La calcettrice è bianca. Mi devo curare io. Lascio un medici. Te l'ho lasciata un'altra dire. Te l'ho lasciata un'altra dire. Sono entrambi i white. Ah, pure io mi devo perdere. No, sono entrambi morti, ah? Io ho la solo l'esercito. Io, quindi... Stai il pompa lì, ah? Stai di va. Ok, perfetto. Dove essere la calcettrice. La vedo. 64 bianco, hai fatto. No, un altro. No. Guarda. volevo farvi la chile per la vita by the way non è un problema ai scudi no no tutte le cure mi hanno fatto finire tutto dalla prima l'ultima proprio l'ho detto bene però si sta allenando non ho cercato di fare il più possibile guarda lì che sale 40 blu e white non ha più scelta ah no buono che l'hai fatto tu meno di cuore con smg blu non la vuoi? no no se ho diso qua abbiamo finito? è salito? aspetta 5 blu una banana ecco l'ho ottimo 100 blu a questo qua sotto sto parlando con la collinei ground e tu in ground? in ground ce l'ho io che mi tira lo scudone io ho fatto 100 blu ma si ho fatto sicuro di scendere il mio di nuovo blu? bravo bravo lo ha incappelato? l'ho bloccato? l'ho ucciso? ah ma cosa l'hai ucciso? l'ho ucciso io ma che so non so infatti l'ho detto apposta è arrivata la kill è arrivata ma non è che l'hai ucciso? l'ho ucciso? ma poi se io te l'ho ucciso senza fare nulla dai ho capito l'ho detto apposta una volta l'ho aiutata una qua dietro ti presentate vieni qua a barca vieni qua doppio 35 anni vieni qua senza shield è bianco quello senza 90 60 ok vieni qua maggiore è un botto non si capitava e la fai uccidere almeno sta arrivando ma sono un botto era un botto di la verità di la verità bump è blu qua se vuoi c'è bump nuovo c'è una palla qui? ecco sui alberi sono fermo perché ho preso full damage? ma sei uscita la palla? io una volta ci sono morta mentre uscivo è blu c'è una palla dietro? è un botto malissimo aspetta c'è una rosa vediamo se la posso tappare immaginati se non se intrappoli uno però non hai le tappole normali e metti due col dardo due palle sentite blu? no no la press bomber ora vai ma mi fa mettere la trappola tipo 36 è quello in fondo non ha più shield non ha più shield guarda c'era ad uno un e poi ho morto dietro è arrivato a blu fai lo accettamento sì non ti permetterai proprio non ci pensare nemmeno di barrettare ma come ti senti oh mio dio sentite il block quello dietro al ninja 18 blu io ho fatto malissimo con le softità e white ok raggato una volta raggata ancora raggata ancora lì stanno c'è potrebbe servire per la ma perché mi deve stare sto fio di puttana l'amore in santa pace voglio vogliata parla questo qua con le collezioni dardi aspetta ma non hai tardi lo volevo fare anche ancora ben sabindato il battone hai chiuso chiuso ce l'ho chiuso ce l'ho chiuso veri devi solo mettere un muro venire a me entrati qua c'è 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 il legno c'è il legno il muro legno è noto e dove c'è pure quello di battone hai visto il muro di legno fa dieci alla volta fa malissimo barca ma questo è bullissimo guarda guarda fa malissimo fa malissimo 10 al secondo porca puttana ma a te non ti fa nulla scusami sai perché non poteva mettere la cosa perché c'era la scala con la scala non puoi farlo se c'è la scala non puoi mettere i tardi capito ma te li hai messi ah ma per terra no a sinistra e destra l'ho messo soltanto quando non c'era più niente quando lui ha rimosso la scala comunque guarda che 10 al secondo guarda che 10 di danno è tantissimo eh sai che ti ho fatto scendere la mia palla pesa e una palla al piede eccoli guarda guarda lì hai lanciato adios hs la donna non ha shield il maschio non l'ho hitato invece il maschio è white morte maschio ma guarda il loot di questi no vieni a vedere questo vieni a vedere questo ora eh lo so ma perché anche l'altro eh non è che scherzava l'ultimo si fa di dardi quanti ne hai e con la palla ho un dardo vai ma è la mia è la tua vieni è lì è dietro l'albero che abbiamo sentito ma prendo ciao ciao what the fuck man why do you do this ho 30 bombe così what what quando l'abbiamo fatta 30 bombe are you fucking killing me ma io non me ne so neanche accorta ho 30 punti più 10 di posizionamento mi ha fatto 40 punti in una partita gg io neanche me ne sono resa conto onestamente però ok